Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi partita contro Brianza Basket e niente, si spera come sempre in una vittoria. Io non vi dico nient'altro e andiamo dentro con la partita. Grazie a tutti. E qui 84-83, grande vittoria per il Legnano, veramente, oggi è stato un miracolo. E che dire, alla prossima contro Piacenza e si spera in un'altra vittoria. Io vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento ed iscrivervi al canale. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!